Sicuramente abbiamo condotto una procedura di aggiudicazione trasparente, corretta, nonostante alcune osservazioni mosse dall'opposizione che sono state smentite peraltro anche dall'ANAC durante il procedimento. Io credo che le caratteristiche dell'appalto riusciranno a offrire un servizio di qualità ai ragazzi della nostra città e a tutelare le famiglie da eventuali errori che ci sono stati nel passato. Io credo che questo consorzio abbia tutte le caratteristiche e le qualità per offrire un servizio di qualità a un costo basso per le famiglie per non gravare ulteriormente sui bilanci familiari. Per quanto riguarda i centri cottura, a differenza forse degli altri anni, non partirà tutto da un solo centro cottura ma ne saranno due, questo per evitare possibili problematiche legate ad esempio al Covid, legate ad un'interruzione di corrente, di energia elettrica, di acqua o cose simili. Ci divideremo quindi i passi della produzione delle scuole, in parte partiranno da Villamagna, per la maggior parte delle scuole di Chieti Alta e ovviamente da Chieti Scalo, quelle scuole di Chieti Scalo. L'offerta tecnica prevedeva anche l'applicazione di un'app che stiamo vedendo di attivare insieme al comune, con la quale il genitore potrà gestire direttamente la comunicazione del pasto. Quindi scaricandosi quest'app e queste informazioni poi le daremo in seguito insieme al comune, il genitore potrà inserire l'anagrafica del figlio, tutti i dati relativi al pasto, cioè se usufruisce di un pasto ordinario oppure di un pasto speciale per motivi etico-religiosi oppure per motivi di celiachia o di intolleranze varie. Poi potrà verificare ogni giorno il menu del figlio sull'app e gestire anche eventuali preferenze diverse da quello del pasto standard, il menu alternativo tipo di pasta in bianco qualora il figlio non dovesse stare bene e segnare l'assenza del bambino in caso in cui non usufruisca, non vada a scuola.